E' iniziata il primo giorno di agosto nella parrocchia di San Giuseppe la quindicina tradizionale in onore dell'assunzione della Beata Vergine Maria. Giorni di grande devozione in cui i fedeli sono soliti portare dei fiori in donna alla Madonna e riporli proprio vicino alla sua statua che si trova accanto all'altare. Questa festa fondamentalmente ci ricorda la nostra vocazione che è quella di abitare nella Casa dei Cieli. E' bello quello che dice il capitolo ottavo del Concilio Vaticano II della Lumencensium a riguardo della Vergine Maria. Dice proprio questo che Maria è immagine della Chiesa per cui noi saremo, noi siamo in cammino verso questa vocazione. Maria già code di questa pienezza di grazia, di questa completa vita in Dio. E noi in quanto battezzati siamo in cammino. E' una festa importante dal punto di vista anche pastorale perché aggrega il quartiere, aggrega gli abitanti, aggrega le persone. E quindi è un motivo di sensibilità, di espressione da parte di tanti. Tutto pronto dunque per ritornare alla tradizione con la processione del simulacro della Madonna Assunta lungo il Viale Regina Margherita proprio nel giorno di Ferragosto. Faremo il percorso tradizionale, arriveremo al vecchio ospedale dove c'è la vera Chiesa dell'Assunta. E speriamo un giorno di poterla rivedere restaurata, agibile, così da poter collocargli dentro la statua della Madonna Assunta. Quella è casa sua. Qui la Madonna è ospite, è graditissima ospite, ma comunque sempre ospite. Ecco, la sua casa è là sotto. Quindi arriveremo lì e poi torneremo indietro. Un momento di festa per l'intera parrocchia e non solo. È un momento molto forte in cui tutti i parrocchiani, quelli che comunque frequentano la parrocchia San Giuseppe, si ritrovano anche a lavorare insieme e a organizzare questa quindicina della Madonna Assunta che appunto si svolge in un momento magari di ferie, un momento in cui la gente si allontana. Invece, nonostante tutto, la quindicina della Madonna Assunta è sempre molto partecipata dalla città, non solo dal quartiere dei parrocchiani, ma anche da persone che vengono al di fuori del nostro quartiere e addirittura anche che non vivono più a Caltanissetta.